un matrimonio può cambiarti la vita e lo stesso è successo anche a Egon Schiele nel 1915 quando convolò a nozze con Edith Arms le sue opere pittoriche e grafiche realizzate nei mesi successivi al matrimonio ci mostrano uno stile meno tormentato del solito quattro giorni dopo le nozze Schiele fu chiamato alle armi ma ciò non gli impedì di continuare a lavorare ed esporre anche grazie a un ufficiale dalla mentalità aperta che trasformò un magazzino in uno studio per l'artista quando poi Schiele fu trasferito a Viena nel 1917 gli fu perfino concesso di dormire a casa nell'opera dell'artista che vi presento oggi una delle mie preferite protagonista è proprio una coppia che si abbraccia su un lenzuoro bianco tutto sgualcito a sua volta adagiato su una coperta gialla i capelli della donna scendono sul cuscino non vediamo il suo volto e il suo braccio cinge la spalla dell'uomo in una posizione che ricorda quella del bacio di Gustav Klimt non a caso dato che i due artisti erano molto amici legati anche da un rapporto allievo maestro l'uomo rappresentato è Egon Schiele ma il suo corpo è meno scheletrico e deforme rispetto a come ce lo ha mostrato in altri autoritratti anche se i dipinti e i disegni dell'artista sono spesso stati accusati da essere al limite della pornografia la profonda umanità che li contraddistingue non ha nulla di scabroso e questa tela lo conferma l'ossessione di Schiele per la sessualità è più un qualche cosa di paragonabile al fervore religioso l'unità tenera e affettuosa di questo braccio segna una svolta profonda rispetto ai disegni e alle tele precedenti è il simbolo della felicità coniugale di Schiele e rappresenta il periodo più sereno per l'artista ma dense nubi già si addensavano all'orizzonte la terribile febbre spagnola del 1918 che fece milioni di vittime in tutto il mondo si portò via anche Edith quando era incinta di sei mesi Schiele la seguì morendo tre giorni dopo a soli 28 anni se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando